blog space summer tutti gli spazi che vuoi ci rilassiamo ci rilassiamo ci rilassiamo meditiamo conosciamo nuove culture prendiamo il sole cioccoliamo socializziamo passeggiamo passeggiamo su internet wifi blog space summer tutti gli spazi che vuoi mercoledì giocoleria in collaborazione con basker spirata giovedì flowers evening chill out e angolo relax venerdì aperitivo con piatti tipici ispirati ai cinque continenti sabato concerti dal vivo dalle 18 in poi al centro giovanile blogos a casalecchio di reno inaugurazione della stagione estiva venerdì 12 giugno l'ingresso è rigorosamente gratuito per maggiori informazioni www.ilblogos.it blog space summer tutti gli spazi che vuoi www.ilblogos.it